Un sindaco sceriffo in provincia di Caserta o meglio una sindaca che va in strada e multa personalmente gli automobilisti indisciplinati in assenza del vigile. E' successo a Ponte Natone un piccolo comune della comunità montana di Montemaggiore. La giovane sindaca Adriana Esperti che anche in attesa al suo quinto mese di gravidanza qualche giorno fa ha fatto le prime due multe per divieto di sosta andando in aiuto ai vigili che non possono essere sempre presenti. Vittime due automobilisti che avevano sostato in un tratto di strada molto angusto che attraversa il piccolo comune dove molti sono i pericoli. Noi abbiamo incontrato la prima cittadina e sentite perché ha deciso di fare questo. E' un'iniziativa mia perché dall'inizio del mandato ho sempre detto che amo il rispetto delle regole e la legalità. Voglio l'ordine nel mio paese. E' un'iniziativa nata in ottica di collaborazione con la Polizia Municipale che sicuramente non può coprire tutti gli orari del giorno per assicurare la sicurezza statale e l'ordine. Quindi scendo io in campo. Che cosa è successo qualche sera fa? In realtà un episodio che mi ha colpito particolarmente risale all'inizio del mio mandato. L'anno scorso era una sera estiva e ricordo che un'ambulanza aveva difficoltà a passare il tratto di via torre per parcheggi selvaggi sull'altro lato della carreggiata. Questo episodio mi ha fatto profondamente vergognare e mi ha fatto capire che c'è bisogno di un po' di più ordine. Quindi qualora non è possibile assicurare un altro modo ci sono io, scendo io, non ho paura. Sindaco, qualcuno si è chiesto la legge glielo consente? La legge me lo consente perché nel comune di Ponte Latone non esistono forze dell'ordine presente. Quindi non esistono carabinieri, polizia, guardia di finanza. Questo mi consente di poter quadruare la Polizia Municipale nel svolgere questi ruoli. Quindi è possibile farlo. Diciamo che nell'ottica di questa linea che lei è stata adottando vuole dire qualcosa ai cittadini. Sì, voglio dire che al di là della repressione che vuole essere un messaggio, un segnale, ci terrete tantissimo che il senso civico prevalesse in maniera spontanea. Non abbiamo bisogno di reprimere. Facciamoci carico noi di questa responsabilità e le regole, osserviamole da noi, senza bisogno che ci sia qualcuno a dire che questo non si fa. Da Ponte Latone è tutto. Lorenzo Applauso per casertasira.it